Musica In Camonte Rigata il nuovo sistema di raccolta differenziata che rispetto a Studiaco sarà organizzato in una maniera differente. È un sistema misto per cui nei residence si vederà tutti i miei cartellati e per le prime case, quindi per i residenti e per gli operatori commerciali sarà una raccolta a porta a porta vera che verranno girati giornalmente i vari rifugi conferiti. Per gli altri residenti di seconde case, quindi billette uni o plurifamiliari e per i turisti che quindi vengono giornalmente e magari frequentano le aree picnic sarà attivo un sistema di raccolta presso le minisole ecologiche ad entrata attraverso o la tessera sanitaria infestata all'utenza Tari oppure delle tessere disponibili presso il centro visita e alcuni operatori commerciali per l'accesso giornaliero e il conferimento presso queste minisole che sono delle strutture, diciamo, terrematizzate. Per quanto complesso richiediamo a tutti la collaborazione anche perché è molto derivata nel nostro tesoro oltre alla montagna della capitale e quindi è bene che qui ci impegniamo e cerchiamo di collaborare con la buona riuscita del nuovo sistema.